buongiorno sono alberto di arredamenti veneghello oggi vi illustro tre tipologie di pattumiera per la raccolta differenziata soluzione pattumiera per raccolta differenziata sul sottolavello con antine estraibile due o tre cesti e quando è un aumento di un taglia tutto comodissimo soluzione pattumiera raccolta differenziata per un sottolavello con i cestoni tre o quattro contenitori uno dei quali contiene a un serbatoio che contiene un liquido che igienizza e all'istante toglie i cattivi odori derivanti dai rifiuti altra soluzione per pattumiera raccolta differenziata sul sottolavello con i cestoni è questa tre o quattro contenitori inox facili da utilizzare a seconda delle abitudini apro faccio lavorando dentro oppure il contrario si aprono così dopo di che queste sono alcune delle soluzioni possibili venite a trovarci vi aspettiamo siamo aperti fino alle 22 prenotate l'appuntamento da arreddamenti manegallo